Manuel Agnelli Show durante la terza puntata di X-Factor, quella di ieri 7 novembre Il fondatore e frontman degli After Hours, infatti, non le ha mandate a dire LL Giudice ha parlato della mondo della musica attuale, parlando di cui è autotune Insomma, una bella frecciatina ad alcuni cantanti di oggi, ma in che occasione lo ha detto? Cui è autotune, le parole di Manuel Agnelli a X-Factor Come riportato da Sky TG24, Hutto è nato alla fine dell'esibizione di Mimi, cantante della sua squadra che ha interpretato i Will Survive di Gloria Gaynor Quando lei ha terminato di cantare, Agnelli ha dichiarato che la sua cantante è la risposta alla discografia fatta di Cool e di Autotune Poi ha aggiunto Lei ci vendicherà magari non subito, magari tra 5-10 anni, io vi sto coltivando una magnifica serpe in seno, una magnifica serpe canterina A chi si stava riferendo Manuel Agnelli? Negramaro prossimi ospiti? Il superospite della puntata è stato, invece, Tananai Il cantante milanese ha cantato il singolo Booster, tratto dal nuovo album Calmo Cobra Scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Oc Giorgio Con la direzione artistica di Stefano Clessi, Calmo Cobra è il secondo album del cantante Dopo il successo del primo progetto discografico, Rave, Eclissi, triplo disco di Platino e in top 10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 Contenente alcuni grandi successi tra cui Baby Goddam, Tango e Sesso Occasionale Gli ospiti del prossimo appuntamento saranno, invece, Negramaro Grazie a tutti